L'1% delle persone più ricche al mondo hanno costruito la loro ricchezza durante le più grandi recessioni economico-finanziarie, ma come hanno fatto? Andiamo a vedere qualche spunto. Numero 1, non hanno venduto le loro azioni quando i mercati scendevano in preda alla paura. Numero 2, non si sono fatti spaventare dei media che parlavano della fine del mondo che sarebbe finito tutto quanto. Numero 3, avevano diverse fonti di reddito, quindi non basano le loro entrate solo su un'unica fonte di reddito. Numero 4, si indebitano per asset buoni che creano ricchezza e non asset cattivi che vi rendono semplicemente più poveri. E poi la liquidità fondamentale, avere un fondo emergenze per coprire le spese di tutti i giorni e far fronte ad eventuali imprevisti. E poi, ultimo consiglio, rimanere fedeli al piano. Se ti interessa il tema della gestione delle finanze, abbiamo preparato per te, ho preparato per te questa challenge di tre giorni, dove puoi scaricare anche il quaderno degli esercizi gratuito per prendere il controllo delle tue finanze e impostare il tuo viaggio verso la libertà finanziaria. Il link lo trovi in bio e noi ci vediamo alla prossima.